E' la seconda volta che parli non interpellata, signorina Granger. Non sai trattenerti o provi orgoglio ad essere un insopportabile, so tutto io. Mio padre era un grand'uovo! Tuo padre era un maiale! Signore, c'è il quidditch domani. Allora ti suggerisco di fare particolare attenzione, signor Potter. La perdita di un arto non varrà come scusa. Pagina 394. Sì, il bacio del dissennatore. Si può solo immaginare cosa sia resistergli. Dicono che sia quasi insopportabile da vedere, ma io farò del mio meglio. E' chiaro che la fama non è tutto. Vero, signor Potter?